La solidarietà ai manifestanti egiziani arriva anche dall'estremo oriente. Dopo le manifestazioni di emigranti davanti alle ambasciate in Europa, ora una voce a supporto viene dagli altri, quelli che con le vicende egiziane non c'entrano nulla, ma le guardano da lontano. Alcune decine di manifestanti si sono radunati davanti all'ambasciata americana nelle Filippine. Ritengono che vicia un'eccessiva ingerenza di Washington in Egitto. Il nostro paese ha vissuto le stesse cose. Abbiamo avuto anche noi un dittatore, abbiamo dovuto affrontare anche l'appoggio degli Stati Uniti a questo dittatore, ma ce ne siamo sbarazzati e ora solidarizziamo con il popolo d'Egitto che sta passando le stesse cose. Solidarietà anche in Thailandia, dove la manifestazione si è tenuta davanti all'ambasciata egiziana. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà con il movimento del popolo egiziano per i loro diritti e la libertà di scegliere il governo che vogliono. I manifestanti hanno urlato slogan contro Mubarak e hanno cantato lunga vita alla solidarietà internazionale.